Sì, sì, è andata bene. Purtroppo anche oggi abbiamo iniziato in salita, poi siamo riusciti a pareggiare, poi abbiamo regalato ancora qualche cosa sul secondo gol. Io lo dico ai miei difensori, ai difensori o a chi si trova in fase difensiva. Quando non si può giocare la palla, io voglio che giochino la palla, ma quando non si può giocare non dobbiamo guardare per il sottile, ma dobbiamo dare un calcione e buttarla, non in tribuna, perché è brutto in tribuna buttare la palla, di là dalla tribuna, non proprio in tribuna, oltre la tribuna. Chiaramente è una battuta, ma dobbiamo capire quando si può giocare e quando no. Non possiamo continuare a regalare gol, perché sul primo gol c'è stato un errore che eravamo in vantaggio, sul secondo eravamo in possesso di palla noi. Dobbiamo prendere gol di categoria, che quando ce li fanno bene gli avversari, attraverso un'azione di gioco importante, ci sono anche gli avversari, quindi va bene prendere gol in certe situazioni, ma in altre, quando siamo soprattutto in possesso di palla, non possiamo regalare così tanto. Psicologicamente questi ragazzi, io l'ho detto, avessero, se avesse noi come Salernitana 5-6 punti in più, sicuramente vinceremo anche più partite, perché credetemi, loro ci mettono l'anima, ma questa tensione, questa voglia, questa pressione che c'è su questa squadra, questa voglia di risolvere il problema e di migliorare questa classifica che, insomma, è tutto l'anno che questa squadra fa fatica, porta a commettere degli errori, sia in fase di possesso, sia in fase di non possesso. E quindi in fase di possesso dico sempre di giocare per quelli che sono i nostri ritmi, cercare di gestire bene la palla, perché se c'è frenesia si sbaglia molto, e in fase di non possesso, come dicevo prima, non dobbiamo regalare niente, ma deve essere l'avversario bravo attraverso azioni di gioco importanti per poter farci gol, non possiamo regalare assolutamente.